Benvenuti al parco di Jellystone. E qui entro in scena io, narratore. Casa degli orsi più affamati della Terra. Giornata ideale per un picnic. Yoki e Bubu. Noi romperemo la barriera del picnic. Yoki, aspetta! Me lo fresta un attimo. Qui ci vogliono Frizzi e Lazzi. Dobbiamo un po' esercitarci sui Frizzi e Lazzi. Lazzi, non Lazzi! Se il divertimento è in 3D... Bebberuga! Il loro motto è, ne voglio ancora! Oh, Yoki! Guarda che dice il manuale! Ci siamo noi che strilliamo! L'orso Yoki. Ti costerebbe tanto fare l'orso normale. Procurati il cibo da solo. Pensa che è un verme di gelatina. Yoki! Mi procura il cibo. Io, per l'esercito! Si, the legato è un'escrita!